Ciao, sono Alan Di Garoni e oggi ti accompagno nella visita di questo appartamento. Siamo in via Cantagalli numero 13, a pochi passi dal parco Bucci e vicini sia al centro sia alla zona artigianale. L'appartamento è ampio e ha gli spazi adatti alle tue esigenze. È molto luminoso e ha dei bellissimi affacci su questa zona residenziale molto tranquilla e riservata. Oltre alla cucina abbiamo ben tre camere da letto e il bagno finestrato con il box doccia. L'appartamento è stato completamente ristrutturato ed è dotato anche di aria condizionata. Sono sicuro che questa visita virtuale ti ha incuriosito, perciò contattaci o lascia i tuoi dati nei commenti e ti accompagneremo molto volentieri.